Bello raga qui da Nefra e benvenuti a questo nuovo vlog dove non si vedrà un emerito cazzo Quindi benvenuti a questo nuovo vlog, siamo a marzo, questo è il vlog di marzo, io sembro un po' cinese perché la mia luce è gialla E siamo finalmente tornati coi vlog perché la mia telecamera non voleva funzionare e ora funziona quindi Ah, sono io, sono io, sono io, che bello, bellissimo Ho un sacco di novità da darvi quindi iniziamo subito Prima novità della quale vi voglio parlare in questo vlog, stavo per dire di lì quale e non so l'italiano Ve la scriverò qui sotto tipo, iii che bello passa, che bello E appunto come potete leggere sono i giochi e le serie che ci sono al momento sul canale, mio dio la luce mi sta cecando Dalla prossima settimana ci saranno molti più video sul canale, diciamo da questa, ovviamente non intendo tipo 90 milioni di video alla settimana Però più di uno sicuramente Qui a fianco vi scrivo una piccola lista di giochi che ho già in programma di fare Quindi... Qui E se avete qualsiasi idea per un gioco o per una serie speciale che vi piacerebbe vedere Scrivetelo qui sotto nei commenti, non solo il mio bene, ma nei commenti Oltre a questa serie sui giochi indie o meno conosciuti che porterò sul canale a presto Ci sono un paio di giochi sulla quale sono eccitato Senza il doppio senso Che sono The Binding of Isaac Rebirth Che è la seconda parte di The Binding of Isaac Non riuscirò mai a pronunciarlo correttamente E il secondo gioco invece ve lo voglio tenere segreto Perché è un gioco un po' più... Meno conosciuto Però conosciuto Non so come spiegarvelo Oh mio Dio Un'altra novità molto interessante che mi avete chiesto in tantissimi È appunto il video in collaborazione o con altri youtuber Moltissimi di voi mi hanno chiesto Ma perché non fai video con lui? No perché non fai video con quello? E questa è la vostra voce d'ora in poi Questa è la vostra voce E quindi molto presto sul canale arriveranno video con altra gentaglia E spero che questa notizia a quelli che me l'hanno chiesto Li abbia fatto venire un'erezione grande come il mio braccio Ultima novità non meno importante perché per me è importante Quindi lo è anche per voi È che ogni mese ci sarà un vlog mensile appunto Non all'inizio del mese, non alla fine di esso Ma un giorno a caso nel mese Dove io cercherò sia di darvi le news che ci sono sul canale da quel giorno in poi O serie nuove o cose di me Vi parlo della mia giornata, non lo so E cercherò anche di coinvolgere voi il più possibile Perché? Perché voglio collegarmi di più con i miei cari iscritti E voi belli belli, belli belli Quindi ogni vlog andrò a salutare tre persone E risponderò a tutte le domande che voi avete Quindi qui nei gomentucci, qui sotto Potete lasciarmi tutti i saluti Quindi se volete essere salutati qui sotto Se volete lasciarmi una domanda qui sotto Appunto per questo vlog mi sono state date tre domande e tre persone da salutare Le persone che salutiamo oggi sono Lorenzo Puzzielli, We Are Pro e Cristiano H Radio Power La prima domanda che mi è stata data per oggi è Quanti anni hai? Ho 18 anni, sto andando per i 19 e mi sento già vecchio E se volete farmi i compleanni di auguri I compleanni di auguri I auguri di compleanno Io li faccio il 14 maggio Quindi se ve lo ricordate me li potete pure fare La seconda domanda è Quei lavoro fai? Al momento non lavoro per sé Diciamo che lavoro online per un paio di piccoli progetti E più che altro lavoro a progetti miei Però lavoro come graphic e web designer e developer Quindi appunto faccio tutta la parte grafica di una compagnia O crea un logo O edito immagini O crea un sito Più o meno tutte quelle cose lì L'ultima domanda per oggi è Sei mai stato a convention tipo Romics o cose del genere? Sono stato a Lucca nel 2013 E forse quest'anno tornerò o a Lucca o al Games Week appunto a Milano E ovviamente se ci sarò vi avvertirò prima Così che potete venire a salutarmi E a dirmi ciao Daniel Ciao Quindi per questo vlog è tutto Io spero che vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare mi piace E commentare tutte quelle cose belle lì E se non mi seguite ancora su Facebook O sulla pagina Facebook E qui sotto Potete anche aggiungermi sul profilo personale Che trovate nella pagina Facebook Quindi E vi ricordo come ultima cosa Se non siete iscritti al canale Potete farlo qui sotto Qui sopra Non lo so E niente Spero che questo vlog vi sia piaciuto Con questo vi saluto Bella raga Qui danni fra Ciao Ciao